come vado sulle richieste d'amicizia niente bellissima domanda sai a cui non ho risposta ma io non so dove devo andare per vedere queste notifiche allora mo te lo trovo dai mo c'è mo me c'impegno ah vai alla gamebase si 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 sono alla gamebase finchia ma raga ma quante cazze complicato però eh ti ho trovato grande cazzo si cazzo oh siamo amici cristiano spadaccini e fedez lucia hanno stretto amicizia che cazzo su youtube mi è uscito nella home page una cosa molto simpatica ovvero fedez fedez ti ricorda una persona immagino era gasparri no era l'altro era l'altro signorino simpatico a giovanardi mamma mia frate guarda te lo giuro a quello stavo piangendo te lo giuro bello povero giova adesso mi sa che forse ce l'ho processano povero vai ci come si fa come si fa gioca con amici chi è online oh eccoci ah io ho startato la stream con la tua canzone mi devo preoccupare no ma va sony music nice tu mi devi fare un favore però mentre giochiamo mi puoi aiutare con i tasti tipo mi spieghi magari dei movimenti delle cose che devo premere in particolare cioè io so come cazzo ne so come sei top 10 italiana ma perché io vado a feeling allora c'è in che senso cosa vuoi sapere no no niente poi magari se fai qualche cosa di strano capito tipo e vabbè allora ti delizierò con dei numerini sì comunque è vero era il campo che era una merda ma perché mi cambia la visuale ok ok questo era la visuale la visuale strana ma va cambiata ogni partita o la devo cambiare dalle impostazioni generali ok l'ho cambiata vai a posto a posto devo capire perché sento anche i tuoi suoni è molto particolare questa situazione voilà ora questo è niente ok bello che bloc io duro un tempo te lo dico è oh oh vai vai sotto ok vabbè questa è la strategia che adotto io di solito devo dire molto strano è molto strano e sono molto lenti cazzo cosa cos'è questa cosa era brutto da vedere ma c'è l'importante è il risultato ma Michael è un mostro grazie è free ma che spiega ma se è una strategia cazzo cazzo devo impegnare ok guarda guarda che buco che lascio no no eh sì sì pro player ma com'è possibile se la passassi a chi devi passarla eh cazzo no no eh gg no oh ma quello no dopo otto tiri cazzo qui vedi qui ho sbagliato a dire dove ho andato a coprire le bron vabbè però 13 a 12 in realtà sono positiva poi questo e se ne va e se ne va no ma li fai tutti da te pro player e qui è top 10 subito allora faccio lo sborone faccio pressing a tutto campo così vediamo oh vai bingo mamma mia bingo bingo no frate no no da lì no però così no e se ne va questo pressing è devastante e per mettirti per aiutarti in realtà ah perché lo togli eh sì cioè sono super largo eccolo 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 preciso copri no fai bingo buttalo bingo lì bravo no col fallo 22 a 18 è aperta molto aperta onestamente mi aspettavo di fare più schifo oggi se vuoi mi impegno no 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 così mi sto diverti pure io dai faccio un quarto in modalità pro player giusto per far che perché la mia chat crede che io faccia schifo mi sta a divertire pure a me adesso ti delizierò ti delizierò con del basket champagne ecco vabbè fallo ho fatto fallo ma che ho messo in campo chi è questa gente è Anthony Towns è forte bravo così eh stoppatina bello stoppatina bello bello orca troia sei un bot za e buongiorno buongiorno questo giro palla guardia bravo palla contesa lì orca troia oh questa era buona però eh era bello ma bello bravissimo 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 ok donna che schiacciata ok bello 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 che cazzo mamma è bello solo cotone cosa? oh cosa è successo? cos'è accaduto? è bello madonna quindi la tattica è portarsi a qualche difensore quello si sposta dietro e ti dà tre free eh sì io non so com'è FIFA però credo che sia cioè non so se è la stessa roba no FIFA è completamente tragico ma è vero ti imbuchi e lo fai free marca troia ok nooo 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 mamma mia ho impazzito questo mi sa che è bello mannaggia mannaggia no oh bello ai 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 mix shock ginobili oh cosa ha messo ginobili cosa ha messo ginobili nooo non è che gli hai preso grande nooo nooo questo è free e questo è free e questo è free e questo è free cambia il chino c'è cambia il chino va bene no ma no fanno più punto e questo è il momento svolta eh ciao bello bello oh minchia in faccia così ma qua si può attirare così ma così no lo fai così lo fai così ma che sei che ti messo scusa mamma mia vabbè adesso mi impegno perché io non riesco a parlare e a giocare tu riesci sì 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 vabbè io zero vabbè allenamento dai oppla giocata da tre punti del chonsi vabbè ma che hai fatto che azione hai fatto ahhh che azione hai fatto e va e va e va ed è gg e va tu hai tirato fuori il turbante hai tirato fuori e va tre punti vabbè vabbè ma questo è diventato subito malediettita e questo è super free e beh buonanotte dai vabbè ma ti sei tenuto per l'ultimo dai dimmelo eeeh pro player vabbè buonanotte regà l'ultimo tempo un value si fermava a quello di prima più 20 manco l'ultimo per la gloria più 20 ok tu hai la squadra più forte cioè no in realtà no sono pari io che c'ho gli 80 eh smichia c'hai Magic Johnson Larry Bird Michael Jordan al top però io c'ho Iverson Iversonino che ti fa questo numerino guarda difesa bello Larry è un cecchino mamma mia parca troia mamma mia 10 pari adesso faccio sul serio va bene vince vince sono andato lungo sono andato vabbè però cazzo dai mi sembrava troppo scam che passaggi di merda bello no 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 non ne sbaglia una libero ancora Michele che cazzo col fallo pure col fallo come si è liberato no 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 che blocco era bello guardate no no non è blocchetto che blocchetto ahiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai che culo che culo E questo è il cecchino È il cecchino della tre quarti Il cecchino della tre quarti Michael Cristo di santo Eh sì, c'ho un bel rimontone da fare Ma che errore No, sono addormentato Ma cosa Cosa cazzo ha fatto Cosa ha fatto? Uno, due col canestro Easy Ma come cazzo Come lo trattieni spinte del genere Quel cosa è gigantesco Oh Oh Lebron Lebron Cosa cazzo avevo preso Via Via, c'è un muro qua Mamma mia È un muro Eh, difesona qua Ma cosa fa Novitski Cosa fa Vabbè, vabbè Te lo giochiamo nel quarto Eh, difesa è solide Oh No, no No No, Larry 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 uccello Non l'ha messo lì Meno tre di nuovo Ho provato la leup, ho provato Ma così, a caso? Sì, ma io lo so Triangolo, triangolo Così ti fa la leup Che cazzo No Che errore No, 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 no No, 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 no 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 Questo bugo No, no, no Prendi tutto il signor Magic E vai cazzo E vai Questa è importante Dai cazzo Meno 2 Questa è importante No No Perda da qui Il mattino davanti al giocatore Il mattino davanti al giocatore No Non va Non va Non abbiamo fatto quel blocco Shaquille Shaq Shaq Meno 1 Michael C No 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 È ritrovata io così Che blocco No Mamma mia No No Che partita Holy shit Porca bro Il pressing è gg Si Sì Sì Mamma mia no Così no Oh mio dio Dieci secondi Dieci secondi No Ma perché me la passa Quello che non deve passare Michael Michael c'è Michael c'è Time out 1.7 Non ci voglio credere Oioioioi No Mamma mia Che paura Che paura No Che paura Che game Signori Che paura 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 Che paura